Gocce di serenità. Quinto diritto della persona. Abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni in modo corretto e rispettoso. Purtroppo guardate che imperversa l'idea sbagliata, se mi ami la devi pensare come me, oppure è giusto quello che penso io. Pensiamo alle discussioni a sfondo politico, pensiamo alle discussioni tra partner, genitori, figli. Quindi io ti rispetto e ti amo anche se non la penso come te. Oppure ve la potete cavare dicendo accetto il tuo punto di vista, ma non lo condivido. E poi un bel sorriso.